Molto brevemente Anche per permettervi di tornare Rapidamente in Italia Per chi deve rientrare È stato Un summit Molto interessante Sono grato alla cancelliera Merkel Al presidente Obama Oltre che naturalmente Al primo ministro Cameron Al presidente Hollande Per questa occasione di incontro Una discussione di un paio d'ore Su tutti i principali temi E dossier rilevanti A livello internazionale Quello che forse ci riguarda più da vicino È quello relativo Alla situazione in Libia Dove ho registrato Una grandissima disponibilità C'è una disponibilità Rilevante da parte della comunità internazionale E questo è un cambio Rispetto a quello che accadeva Fino a un anno fa Voi ricordate che un anno fa Il tema europeo era La questione migrazione La questione Libia Non sono delle priorità Ma sono delle questioni Che stanno Sostanzialmente In carico all'Italia Adesso il clima È profondamente diverso Questo mi sembra Un fatto positivo C'è una Piena Disponibilità E pieno sostegno Allo sforzo del governo Al Serraggi Quindi per noi Questo è un fatto Straordinariamente positivo Tutti insieme Dobbiamo fare di tutto Perché Il governo Al Serraggi Lo sforzo del governo Al Serraggi Abbia Successo Tutte le iniziative Che si vorranno prendere Di sostegno E di supporto A questo governo Dovranno essere Richieste dal governo Al Serraggi Medesimo Quindi credo che Da questo punto di vista Sia un fatto importante Positivo Noi siamo naturalmente Convinti Che questo debba andare Di pari passo Con L'attenzione Alla lotta Contro il terrorismo E contemporaneamente Alla tentativa Di risolvere La questione Migratoria Su questo Apro e chiudo Una parentesi Perché sia chiaro Almeno Nella Nella Discussione Italiana Nella stampa Italiana I numeri Di cui parliamo Sono numeri Inferiori Al 2014 E sostanzialmente Gli stessi Del 2015 Questo è un passaggio Molto importante Ve li do Per correttezza 2014 Al 25 aprile Erano 27.000 Gli arrivi Dalla Libia E alla fine Dell'anno Siamo andati A 170.000 2015 Erano 25.200 E alla fine Nell'anno 150.000 2016 Siamo a 25.600 Quindi c'è Sostanzialmente Un livello Equipollente A quello Del 2015 Più basso Del 2014 Questo perché Si è Fatta giustizia Anche di alcuni Allarmi E di grande Preoccupazione Che vedo Naturalmente Tutto ciò Non significa Che non dobbiamo Avere una Straordinaria Attenzione C'è la Disponibilità Che è stata Ribadita Dal Presidente Obama A discutere Di un eventuale Impiego Di mezzi Nato Per bloccare Il traffico Di uomini E gli scafisti Noi li chiamiamo Schiavisti E' una disponibilità Che credo Vada apprezzata E naturalmente Messa In relazione E in sintonia Con ciò Che già sta facendo L'Unione Europea E sempre Naturalmente Con il coinvolgimento Del governo Libico Abbiamo discusso Poi di molte Altre questioni Dalla Siria Alla questione Ucraina Trovo Che sia stato Un appuntamento Importante Però ci venevo A sottolineare Soprattutto Il punto Della Libia Che credo Ci riguardi Direttamente Se ci sono domande Presidente Il primo ministro Azzerrae Ha fatto una richiesta Bello precisa Quella di Aiuti Per la protezione Internazionale Dei pozzi di petrolio Temendo attentati A questi pozzi di petrolio Nelle sue parole C'è anche una risposta A questa richiesta? Prendiamo Tre e quattro domande Insieme Mi associo A quello Che le ha chiesto Il prega Però volevo Anche chiedere Per quanto riguarda I migranti Dopo Il risultato Elettorale Che c'è stato In Austria Se ha riscontrato Da parte Di tutti i partner Europei Oggi La piena disponibilità A evitare Che ci sia Una chiusura Del Brenner E Sull'Ucraina Se posso Invece Scusi Per quanto riguarda Le sanzioni Qual è la posizione Dell'Italia Rispetto al rinnovo Delle sanzioni A giugno Nei confronti Della Russia Volevo chiedere Invece Su un dossier Che ieri È stato discusso Molto da Obama E Merkel A parte A noi Soprattutto Quello del TTIP Perché qualche giorno In tedesco Nei giorni scorsi Ha insinuato Che l'Italia Potrebbe proporre Una versione light Non si capisce bene Che non potrebbe essere Però ecco Volevo capire Qual è la posizione Su l'Italia Sull'accordo transatlantico E Anch'io Volevo chiedere Sulle sanzioni In Russia Anche lì I tedeschi Scrivono Ormai da giorni Che l'Italia Invece Più dubbiosa Vorrebbe frenare Su un approfondamento Delle sanzioni Libia Brennero Sanzioni TTIP Russia L'ultima Commenti particolari Anche da parte di Obama Sulla questione Austria Brennero E Avanzamento Delle forze populiste Provo a sintetizzare Le domande Che sono Molto impegnative Ma diciamo Tre o quattro In sintesi Libia Noi siamo impegnati A lavorare Con il governo Al Serraggi Ci sono In queste ore Evidenze Di Possibili Richieste In alcuni Settori Non ci riferiamo Per intendersi Ai Pozieni Ma ad altre Strutture Così come Per questo punto O sull'accordo Italia-Libia O su ciò Che avete Detto A proposito Dei migranti Noi confermiamo La linea di fondo La linea di fondo È quella Di un rapporto Molto forte Con il governo Al Serraggi Che intendiamo Sostenere E che Quando avrà Da formalizzare Le richieste La comunità internazionale Troverà Nell'Italia Un partner Sensibile Quindi Dal nostro punto di vista L'interlocuzione Con il governo Pronti a A dare una mano All'interno Della comunità internazionale Dentro Un progetto Complessivo Quindi Quando si Porrà il tema Dell'accordo Italia-Libia Della formalizzazione Di richieste Formalizzate Quindi non Annunciate Della questione Migratoria Per esempio Sono molto convinto Che con l'accordo Con la Libia Si ridurrà Il numero Dei migranti Cioè se noi Arrivassimo a fare Un accordo Con la Libia È evidente Che si può fare Ciò che è stato fatto In passato Con la Tunisia O ancora prima Con l'Albania Quindi L'ipotesi Di un accordo Con la Libia Sarebbe Molto importante Anche Non solo Per la migrazione Questo è il primo Pacchetto di risposte Quindi Con alza e raggi Siamo pronti Discutiamo E vedremo A tempo debito Tutte le varie Singole questioni Però Il dato di fatto Che voglio dire Cittadini italiani È che c'è un passo in avanti Mi cade a ridere Cioè il passo in avanti È che adesso C'è un governo Va Aiutato Va supportato Deve ancora Avere una serie Di passaggi formali L'autorevolezza Di questo governo Va Sempre più Implementata E sostenuta Credo che il governo Libico Oggi Incassi Un riconoscimento Importante Perché Gli Stati Uniti D'America Insieme ai Quattro paesi Membri del G7 Danno un endorsement Significativo E pieno Al tentativo Al governo Al tentativo Al governo Di al serraggi Agli italiani Dico È chiaro Che se si fa L'accordo Con la Libia È tutto un'altra Musica rispetto a quella Che abbiamo visto In questi anni In questi anni Non hanno visto L'esodo Di Libici Ma hanno visto La presenza in Italia Di tanti cittadini Africani Che partivano Dalla Libia Poi magari Erano nigeriani O eritrei Ma partivano Dalla Libia Diventata Terra Di nessuno Su questo direi Che possiamo Chiudere il capitolo Libia Questione migrazione Europa Noi abbiamo fatto Una proposta Articolata Come sapete Il Migration Compact È un'operazione Credo che abbia Un grande senso È un grande investimento In Africa È anche la risposta A chi dice Eh ma voi Dovete fare Progetti Non Sporadici Ma progetti Di medio periodo Per l'Europa Lo abbiamo fatto Sulla economia Lo stiamo facendo Sull'immigrazione Non dimentichiamo Che il progetto Più significativo Che l'Italia ha fatto È quello Sulla cultura Un euro in cultura Un euro in sicurezza Che è una rivoluzione Per il modo Di concepire Tradizionalmente La sicurezza Degli europei Quindi Stiamo lavorando Su questo orizzonte Di medio periodo La questione Del Brennero È Molto semplice Non c'è Alcun elemento Alcuno Che giustifichi La chiusura Del Brennero Punto E quindi Noi Pensiamo Che Le autorità Austriache Non potranno Fare altro Che rispettare La normativa europea E che se questo Non fosse Saranno le istituzioni Europee A prendere Le conseguenze Necessarie Perché il Brennero È un simbolo Perché il Brennero È uno strumento Un luogo di lavoro Per tante donne E uomini La Germania L'Austria E soprattutto Il nord est italiano Sono collegatissimi In alcuni aspetti Potremmo parlare Di un unicum Economico Come area regione Tra la zona Della Germania Meridionale L'Austria E il nord est italiano Se ci fate caso Ci sono delle realtà Delle filiere intere Che lavorano insieme E quindi il Brennero È uno strumento È un luogo Di transito Fondamentale Naturalmente Noi stiamo Attenti Ai numeri Alla situazione Della migrazione Ma ripeto Il concetto Perché almeno Sia chiaro Anche a chi Sta fuori da qui C'è anche Ai non italiani I numeri Italiani Dell'arrivo Di migranti Sono più bassi Del 2014 E gli stessi Del 2015 Punto Questa è la realtà Per intendersi L'anno scorso Abbiamo avuto 150.000 persone La Germania Più di un milione È un rapporto Di 1 a 10 E noi Non stiamo Vedendo aumentare I numeri Punto Poi ciascuno Può parlare Di quello che crede Ma questa è la realtà Rispetto alle elezioni In Austria Ovviamente Noi rispettiamo Il popolo austriaco E le sue decisioni Non vi è stata Naturalmente La discussione Su Il demografico Vuoto Di un grande paese Con grande storia Come l'Austria Non è che ci mettiamo A discutere Di chi vince E chi perde Ciascuno di noi Ha le proprie valutazioni Poi se volete Vi dico la mia E cioè che occorre Avere un'Europa Capace di investire Sulla crescita Se vogliamo sconfiggere Il populismo E la demagogia Più che giocare Sulla difensiva Bisogna andare All'attacco E raccontare Ciò che è sempre Stato all'Europa Un grande luogo Di libertà Di democrazia E quindi Come ha detto Devo dire Grigiamente Questa mattina Il Presidente Obama Alla fiera di Hannover L'Europa È questo Grande sogno E deve Tornare A investire Sulla crescita Per questo La posizione Sul TTIP Italiana È la posizione Che conoscete E che conoscete Dai documenti italiani Non dalle indiscrezioni Dei media tedeschi Con tutto il rispetto Per le indiscrezioni Presidente Il primo ministro Alzerraio Ha fatto una richiesta Quella di Aiuti Per la protezione Internazionale Dei pozzi Di petrolio Temendo Attentati A questi pozzi Di petrolio Nelle sue parole C'è anche una risposta A questa richiesta Facciamo Prendiamo Tre o quattro domande Insieme Fancheri Mi associo A quello che Le ha chiesto Il prega Però volevo Anche chiedere Per quanto riguarda I migranti Dopo Anche il risultato Elettorale Che c'è stato In Austria Se ha riscontrato Da parte Di tutti i partner Europei Oggi La piena disponibilità A evitare Che ci sia Una chiusura Del Brenner E Sull'Ucraina E se posso Invece Scusi Per quanto riguarda Le sanzioni Qual è la posizione Dell'Italia Rispetto al rinnovo Delle sanzioni A giugno Nei confronti Della Russia Voglio chiedere Invece Su un dossier Che ieri È stato Discusso Molto Da Obama E Merkel A parte A noi Soprattutto Quello del TTIP Perché qualche giorno In tedesco Nei giorni scorsi Ha insinuato Che l'Italia Potrebbe proporre Una versione Light Potrebbe essere Però ecco Voglio capire Qual è la posizione Sull'Italia Sull'accordo Transatlantico E Anch'io Voglio chiedere Sulle sanzioni In Russia Anche lì I tedeschi Scrivono Ormai Da giorni Che l'Italia Invece Più dubbiosa Vorrebbe Frenare Su un Prolungamento Delle sanzioni Libia Brennero Sanzioni TTIP Russia L'ultima Commenti particolari Anche da parte Di Obama Sulla questione Austria Brennero E Avanzamento Delle forze Populiste L'ultima Sarà possibile Riattivare L'accordo Con l'Italo Libico Se è vero Che c'è Questa Possibilità Provo A sintetizzare Le domande Che sono Molto impegnative Ma diciamo Tre o quattro In sintesi Libia Noi siamo impegnati A lavorare Con il governo Al Serraggi Ci sono In queste ore Evidenze Di Possibili Richieste In alcuni Settori Non ci riferiamo Per intendersi Ai Pozieni Ma ad altre Strutture Così come Per questo Punto O sull'accordo Italia-Libia O su ciò Che avete Detto a proposito Dei migranti Noi confermiamo La linea di fondo La linea di fondo È quella Di un rapporto Molto forte Con il governo Al Serraggi Che intendiamo Sostenere E che Quando avrà Da formalizzare Le richieste La comunità internazionale Troverà Nell'Italia Un partner Sensibile Quindi Dal nostro Punto di vista L'interlocuzione Con il governo Pronti a A dare una mano All'interno Della comunità Internazionale Dentro Un progetto Complessivo Quindi quando si Porrà il tema Dell'accordo Italia-Libia Della formalizzazione Di richieste Formalizzate Quindi non Annunciate Della questione Migratoria Per esempio Io sono molto convinto Che con l'accordo Con la Libia Si ridurrà Il numero Dei migranti Cioè se noi Arrivassimo a fare Un accordo Con la Libia È evidente Che si può fare Ciò che è stato fatto In passato Con la Tunisia O ancora prima Con l'Albania Quindi L'ipotesi Di un accordo Con la Libia Sarebbe Molto importante Anche Non solo Per la migrazione Questo è il primo Pacchetto di risposte Quindi Con l'Alsirragi Siamo pronti Discutiamo E vedremo A tempo debito Tutte le varie Singole questioni Però il dato Di fatto Che voglio dire Cittadini italiani È che c'è un passo In avanti Mi cade a ridere Cioè il passo In avanti È che adesso C'è un governo Va Aiutato Va supportato Deve ancora Avere una serie Di passaggi Formali L'autorevolezza Di questo governo Va Sempre più Implementata E sostenuta Credo Che il governo Libico Oggi Incassi Un riconoscimento Importante Perché Gli Stati Uniti D'America Insieme Ai 4 Paesi Membri Del G7 Danno Un endorsement Significativo È pieno Al tentativo Al governo Al tentativo Al governo Di Al Serragi Agli italiani Dico È chiaro Che se si fa L'accordo Con la Libia È tutto Un altro Musica Rispetto a quella Che abbiamo visto In questi anni In questi anni Non hanno visto L'esodo Di Libici Ma hanno visto La presenza In Italia Di tanti cittadini Africani Che partivano Dalla Libia Poi magari Erano Nigeriani O Eritrei Ma partivano Dalla Libia Diventata Terra Di nessuno Su questo Direi che possiamo Chiudere il capitolo Libia Questione Migrazione Europa Noi abbiamo Fatto una proposta Articolata Come sapete Il Migration Compact È un'operazione Credo che abbia Un grande senso È un grande investimento In Africa È anche la risposta A chi dice Eh ma voi Dovete fare Progetti Non Sporadici Ma progetti Di medio periodo Per l'Europa Lo abbiamo fatto Sulla economia Lo stiamo facendo Sull'immigrazione Non dimentichiamo Che il progetto Più significativo Che l'Italia ha fatto È quello Sulla cultura Un euro in cultura Un euro in sicurezza Che è una rivoluzione Per il modo di concepire Tradizionalmente La sicurezza Degli europei Quindi Stiamo lavorando Su questi Su questo orizzonte Di medio periodo La questione del Brennero È Molto semplice Non c'è Alcun elemento Alcuno Che giustifichi La chiusura del Brennero Punto E quindi noi Pensiamo che Le autorità austriache Non potranno Fare altro Che rispettare La normativa europea E che se questo Non fosse Saranno le istituzioni europee A prendere Le conseguenze necessarie Perché il Brennero È un simbolo Perché il Brennero È uno strumento Un luogo di lavoro Per tante donne Uomini La Germania L'Austria E soprattutto Il nord est italiano Sono collegatissimi In alcuni aspetti Potremmo parlare Di un unicum Economico Come area regione Tra la zona Della Germania Meridionale L'Austria E il nord est italiano Se ci fate caso Ci sono delle realtà Delle filiere intere Che lavorano insieme E quindi il Brennero È uno strumento È un luogo Di transito Fondamentale Naturalmente Noi stiamo Attenti Ai numeri Alla situazione Della migrazione Ma ripeto Il concetto Perché almeno Sia chiaro Anche a chi Sta fuori da qui Cioè anche ai non italiani I numeri italiani Dell'arrivo Di migranti Sono più bassi Del 2014 E gli stessi Del 2015 Punto Questa è la realtà Per intendersi L'anno scorso Abbiamo avuto 150.000 persone La Germania È più di un milione È un rapporto Di 1 a 10 E noi non stiamo Vedendo aumentare I numeri Punto Poi ciascuno Può parlare Di quello Che crede Ma questa è la realtà Rispetto alle elezioni In Austria Ovviamente Noi rispettiamo Il popolo Austriaco E le sue Decisioni Non vi è stata Naturalmente La discussione Su Il democratico Vuoto Di un grande Paese Con grande Storia Come l'Austria Cioè non è che ci mettiamo A discutere Di chi vince E chi perde Ciascuno di noi Ha le proprie valutazioni Poi se volete Vi dico la mia E cioè che occorre Avere un'Europa Capace di investire Sulla crescita Se vogliamo sconfiggere Il populismo E la demagogia Più che giocare Sulla difensiva Bisogna andare All'attacco E raccontare Ciò che è sempre Stato l'Europa Un grande luogo Di libertà Di democrazia E quindi Come ha detto Devo dire Egregiamente Questa mattina Il presidente Obama Alla fiera di Hannover L'Europa è questo Grande sogno E deve tornare A investire Sulla crescita Per questo La posizione Sul TTIP Italiana È la posizione Che conoscete E che conoscete Dai documenti italiani Non dalle indiscrezioni Dei media tedeschi Con tutto il rispetto Per le indiscrezioni Dei media tedeschi Quindi noi siamo Impegnati in una trattativa In un negoziato Siamo favorevoli A che questo si concluda Siamo tra quelli Che spingono Perché si concluda Naturalmente Nel rispetto di tante Specificità Che tutti noi Dobbiamo giustamente Difendere Io per esempio Sono sempre più convinto Che più c'è una libertà Di commercio mondiale Meglio è Contemporaneamente Mi piacerebbe Che si affermassero Le ragioni del made in Che alcuni paesi europei Ad esempio Non vogliono Ma adesso non è questa La sede per fare discussione La questione Ucraina È una questione Molto complicata Come sapete Noi siamo Naturalmente Al tavolo Della comunità internazionale E come tali Abbiamo la stessa posizione Degli nostri altri colleghi Sotto lei mi parlava Delle indiscrezioni Ancora una volta Dei media tedeschi Io credo Che se uno Vuole porre L'attenzione Sulla necessità Di aiutare l'Ucraina Non si preoccupa Tanto della posizione Del governo italiano Quanto del progetto Del Nord Stream Perché il raddoppio Del Nord Stream Che è un'operazione Che Come sapete Ci ha visto Molto discutere Anche in sede Di Consiglio Europeo È un'operazione Che taglia fuori l'Ucraina Allora un anno fa Abbiamo detto Di Nord South Stream Per non tagliare fuori L'Ucraina Adesso come facciamo A dire di sì Al raddoppio Del Nord Stream Partendo dal presupposto Che il Nord Stream È una Un pipeline Una strumentazione Che non è neanche Utilizzata In toto Al momento Però Devo essere sincero Su questi singoli argomenti Abbiamo soltanto Iniziato la discussione Ma credo che avrà Poi i tempi Tradizionali Credo che Il Consiglio Europeo Ne parlerà Immagino Nel Consiglio Europeo Di giugno No 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 Del tema Ucraina Del lavoro Del processo di Minsk Delle sanzioni Di tutto questo capitolo qui La discussione Sarà fatta Credo Al 23 24 giugno Che poi penso Si è stato spostato Di qualche giorno Perché c'è il referendum Inglese Quindi sarà 28-29 giugno Bene La sintesi finale È questa Molto bene L'Italia È a questi tavoli Internazionali Con rinnovata Credibilità Anche alla luce Della ritrovata stabilità E credo sia un fatto positivo Scherzando all'inizio Perché abbiamo parlato All'inizio Delle riforme Costituzionali italiane Del referendum Ho scherzato con il presidente Obama E con il primo ministro Cameron Proprio mentre stavamo iniziando La discussione Quando stavate arrivando I fotografi A fare la foto Per raccontare Di come L'Italia ha avuto In 70 anni 63 governi Potete immaginare La faccia che hanno fatto Lo sapevano Immagino Però È sempre una sorpresa Sentirselo dire Bene Al netto Naturalmente Delle discussioni interne Sulla riforma costituzionale Il punto centrale È che la ritrovata stabilità È un asset Anche per la politica estera Del nostro paese La quale politica estera È sicuramente Incentrata sul Mediterraneo Lavoriamo molto Anche in altri scenari Di cui non vi ho parlato Ma che sono stati oggetto Della discussione L'Iraq La diga di Mosul I 2100 carabinieri Che fanno addestramento Il gruppo Contro Il finanziamento Di Daesh Che è co-coordinato Dall'Italia Ed è un fatto importante Cioè come la lotta Al terrorismo globale Dal punto di vista finanziario Considerate che Dai dati che noi abbiamo Daesh ha anche un problema Di liquidità Economica Finanziaria Paga meno di prima Le persone che combattono Per Daesh È un fatto positivo Dunque è un segnale Di cambiamento L'Italia ha lavorato su questo L'Afghanistan Non abbiamo avuto modo Di parlarne Ma è un altro Grande tema L'Italia come sapete Quest'anno Ha aumentato Il proprio ruolo Anche perché gli spagnoli I principali dossier Di politica internazionale Il lavoro che sta conducendo Il ministro degli esteri E con lui Tutte le strutture L'intelligence E il lavoro E il lavoro naturalmente Di sponda Con Palazzo Chigi Sta dando Una serie di frutti L'abbiamo visto ieri In Europa Con ieri Nei giorni scorsi In Europa Con l'ottimo lavoro Del ministro Paduan Lo stiamo vedendo Nelle proposte Che stiamo avanzando In sede istituzionale Credo che sia un fatto Di grande positività Ovviamente poi I risultati Che piano piano Stanno arrivando Sono risultati importanti Ci tengo però a dirvi Che quello che è fondamentale È che la realtà Sia più forte Di ogni allarmismo La situazione Migrazione Va monitorata Controllata Ma i numeri L'ho fatto vedere Numericamente Ai colleghi Con i dati Sono numeri Profondamente diversi Da quelli che si leggono Sui media Degli allarmi Che si leggono sui media Detto questo Bene Stare attenti Bene intervenire Ben vengano Le iniziative della Nato E se poi In Libia Si consolida il governo Finalmente Potremo Mettere la parola fine All'emergenza Che ci ha caratterizzato In questi tre anni Quindi al lavoro tutti Grazie per la vostra pazienza Per il vostro supporto Buon lavoro E buon rientro in Italia A tutti Ciao ragazzi Arrivederci a tutti Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti